salve posso farle qualche domanda eviterei è una roba veloce come ha iniziato a tifare inter perché avevo assunto alcol e stupefacenti quindi ero ubriaco se non si spiega dignitosamente brillo e che droghe aveva assunto hashish marijuana cocaina micropunte comunque lei è solito consumare sostanze stupefacenti se io mi definisco tossico indipendente però sul suo conto si dicono anche grandi cose ad esempio è vero che lei è capace di fare l'amore mentre cucina io sono polivalente e ci racconti l'ultima volta come è avvenuta la penetrazione per via nasale fantastico e poi che avete fatto abbiamo ululato ok la saluto e se non lasci dire lei è un professionista poco professionista molto libero